Buongiorno a tutti, sono Deborah, consulente Elan. Voglio proporvi una giornata promozionale sabato 16 maggio in collaborazione con la farmacia La Prada. In farmacia troverete tutti i prodotti a disposizione con uno sconto del 20%, linee make-up, linea viso, linea corpo e anche profumato e capelli. Quindi un mix di prodotti naturali, di una linea genovese veramente efficace. Sono qui anche per presentarmi e proporvi un servizio nuovo, un servizio di consulenza online, proprio offerto da Elan. Un servizio che vi permetterà una consulenza con me della durata di 20 minuti tramite videochiamata, tramite telefonata, tramite whatsapp, quello che preferite. E potrò trasmettervi i valori di questa azienda, mostrandovi i nostri prodotti. E su vostra richiesta potrò anche realizzare un video make-up tutorial, diciamo, su quello che preferite guardare. Quindi un focus sugli occhi, piuttosto i nuovi colori dei nostri rossetti e tutto il resto. Quindi vi aspetto, prenotate la vostra consulenza gratuita e che dire, Elan, l'efficacia delle erbe.